Pronto? Sì? Buonasera! È la sede della Serie A? Della Lega Calcio? Sì, buonasera! Senta, sono un tifoso del Milan, sono qui con mio figlio chiamato Sheva. Volevo chiedere, siccome abbiamo prenotato 38 giornate di campionato, no? Abbiamo già giocato la prima Udine che tra l'altro abbiamo anche perso. Volevo chiedere, si può disdire per le altre 37? Sì, magari passiamo direttamente l'anno prossimo, 2020. Tanto questa stagione non avrà né capo né coda. Come dice? Non si può disdire perché se no andiamo in Serie B? No, ok, ma tanto comunque la salvezza arriva. Semplicemente volevamo rimandare direttamente l'anno prossimo, vero Birba? Non si può fare. No, perché mi hanno detto la stessa cosa per l'Europa League. Noi però abbiamo chiamato, abbiamo disdetto, abbiamo detto guarda quest'anno non se ne fa niente, ci vediamo magari l'anno prossimo o fra due anni, mi hanno detto che non c'era problema. Non è che mi hanno... Non mi hanno appena... cioè, va bene così. Anzi, mi hanno anche messo a posto i conti. non si può fare lo stesso per la Serie A. Mi conferma che purtroppo dovrò vedere altre 37 partite così. Ho capito, ho capito. Va bene, cioè non va bene, però ok. Hai capito Birba? Dobbiamo vedere altre 37 partite così. Sei contento? Non mi sembra mica tanto contento qua Birba. Va bene, niente, se non può fare niente, io avrei disdetto. Però, va bene, le guardo tutte, tutte le guardo, tutte. Posso magari saltarle... Come dici? Non sei d'accordo. Eh, vedi che anche Birba si lamenta. Saltarle uno, due, almeno due. Almeno quelle in trasferta, che dici? Almeno quelle in trasferta. No, dobbiamo vederle tutte. Va bene, va bene, va bene. La ringrazio, buonasera. Hai gestito anche tu? No, lascia stare. Ragazzi, ragazzi, che vi devo dire? Abbiamo lasciato da... Da dove... Cioè, siamo ripartiti da dove abbiamo lasciato. Lenti, senza spunti, senza... Senza niente. Fondamentalmente senza nulla. Abbiamo fatto una cosa, stavamo facendo abbastanza bene dietro. Poi abbiamo preso col suo angolo, dove Chessy si è fatto sovrastare. Per il resto... Male, male, ragazzi, male. Male perché siamo lenti. Ci sono certi momenti dove proprio camminiamo. Camminiamo. Cioè, camminiamo. Già eravamo lenti con gli attuti. Ma adesso siamo ancora lenti. Ancora lentissimi. Aspettate che mi sposto un secondo. Non lo posso lasciare, il Bilbao. Ma non lo posso lasciare, se no se ne va in giro. Stavo dicendo, siamo lentissimi. Siamo lentissimi. Camminiamo. Suso trequartista, male. Oggi male. Ma ragazzi, non è un trequartista. Io perché dico che voglio Ames Rodriguez? Poi, queste partite, questo calcio, eccetera, è figlia della società. Io questa volta, dopo un po' la società, se tu parti dall'allenatore, prendi Jean Paul. Che poi, il calcio di Jean Paul, eccetera, il tocco magico, sono queste. Poi vediamo, magari faremo un bel calcio. Oggi abbiamo giocato senza i nuovi. Nuovi poi. Cioè, ragazzi. Benassero è entrato gli ultimi cinque minuti. Comunque si vede che c'è un tocco diverso da regista rispetto a Ciaranoglu. Che, tra l'altro, era fuori ruolo. Che sì, ha giocato gli ultimi dieci minuti. Sicuramente un'altra cosa rispetto a Borini. Leao, sicuramente un'altra cosa rispetto a Castiglieri. E a questi sono. Manca ovviamente Teo Hernandez lì. Anche se Rodriguez dietro non ha fatto male. Davanti, che ragazzi, davanti siamo poca roba. Davanti non troviamo spunti. Sempre anticipati. Non do neanche troppe colpi a Pionte. Perché praticamente non viene mai servito come dovrebbe essere servito. Cioè, questo calcio di Jean Paul. Dove chiede movimenti particolari alle punte. Per liberarsi così faranno. Non arriva mai la palla alle punte. Le uniche volte... Le uniche volte che arriva la palla alle punte. Sono girate, marcate. E non c'è poco da fare. Vedi, anche Birba si lamenta. Cosa vogliamo fare? Cosa vogliamo fare? Siamo già a zero punti dopo la prima giornata. E abbiamo già pianto solo a zero. Arrabbiatissimo. Arrabbiatissimo anche Birba. Siamo già a zero punti. L'unica nota positiva. Gigio Donnarumma. Portiere più forte del campionato. Ha fatto una parata su lasagna pazzesca. Pazzesca da un metro. Dentro l'aria ha fatto una parata veramente pazzesca. Di testa, di piede. Portiere universale. Unica nota lieta. Che infatti è l'unico che vogliono vendere. Speriamo che non arriva l'offerta del Paris Saint Germain. E che vendiamo pure lui. Capitano, sinceramente, l'ho visto con poca personalità anche Romagnoli. Cioè, bene a livello difensivo. Ma lui è il capitano. Deve dare una svegliata. Cioè, queste partite, ragazzi. Quest'anno giochiamo solo il campionato. Io non ho visto la voglia di vincere. Neanche la voglia di vincere. Non solo non ho visto qualità, non ho visto velocità. Ma non ho visto nemmeno la voglia di vincere. Proprio... Cioè, ieri liberi in cinque minuti. Aveva più voglia di vincere di tutto il Milan oggi. Per farvi capire. Perché poi quando c'hai i campioni, anche a quarant'anni, la mentalità è diversa. È diversa. Quando prendi i giocatori da l'Empoli così, non hanno la stessa mentalità. È normale. Poi, tra l'altro, hai messo le A.O. A un quarto d'ora dalla fine. Dieci minuti dalla fine. Cioè, mettilo prima. Mettilo prima. Ma cosa volevi fare? Volevi portare a casa il pareggio a Udine? Cioè, l'ha dovuto mettere dopo che abbiamo pregiò gol. Ma mettilo prima. Tanto Suso, comunque, era inesistente già da prima. Potevi anche toglierlo. Magari metterlo largo, come ha fatto alla fine. Perché alla fine, non so se non siete accorti, Suso l'ha messo largo. Non era neanche più tre quartisti. Tanto non ha azzeccata una di tre quartisti. Ma anche i movimenti che hanno fatto le punte. Non so, io mi devo andare a rivedere qualche partita della Sampdoria l'anno scorso. Perché o veramente c'era la qualità di Quagliarella che cambiava tutto. Poi, ricordiamo che Quagliarella ha battuto tipo su 20 gol, 10 rigori, eh. Se non di più. Ah, la porcheria del bar. Ah, madonna. Adesso dobbiamo parlare del bar. Perché, ragazzi miei. Allora. Quello, gli tira uno schiaffo. Non succede nulla. Al bar lo vedono, gli dicono niente. Poi va dall'altra parte e segna, ovviamente, no? Tra l'altro ci siamo fatti segnare. Non mi ricordo nemmeno come si chiama. Macau. Non lo so. Macau, meraviglia. Non lo voglio neanche sapere come si chiama. Gli ha tirato uno schiaffo a pionte. Niente, niente. Poi, che poi tra l'altro per me quelle lì sono tutte forcherie dove non bisogna fischiare nulla. Piante che deve stare in piedi, non deve fare quelle sceneggiate. Però c'è la regola. Perché se lo facciamo noi ci buttano fuori. A me va bene che non l'hai buttato fuori. Ma poi non voglio vedere che buttano fuori i nostri. Lo stesso per il fallo di mano. Ieri un casino, la regola è cambiata, la regola è cambiata. Quello di Zilischi non era mai fallo di mano nella vita, mai. Tra l'altro anche quello di Pulgar. Perché il tuffo di Mertens dicono, gira voce e gira, amore mio. Quei miei capelli. Non è che ne ho tanti. Nei di più tu. Gira voce e voce e gira. Che non hanno fischiato il tuffo di Mertens. Ma il fallo di mano di Pulgar. Prima del tuffo di Mertens. Che non era neanche il fallo di mano perché era così. Però hai dato quei rigori là. L'unica bar che vai a vedere non dai rigore al vino. Cioè la presa col braccio così, per me non è mai rigore. Quello così perché quello è dato di testa. Uno salta con le braccia alzate per andare di testa. Perché così ti insegnano quando vai a giocare a calcio. Per dare forza di testa. Con le braccia ti dai lo slancio. Non è che vai per prendere la palla. Vai per dare lo slancio di testa. La presa col braccio largo di testa. Perché? Perché hanno enunciato il rigore? Fatemi capire. C'è il regolamento. Per me non è mai rigore. Per me non è mai rigore. Ma se contro me lo devi dare. Se contro me lo devi dare. Se il regolamento dice quello. Ma perché non ci danno il rigore? Cosa dici tu? Si rubano? Amore. Mi arrabbia pure lui. Non ci danno mai rigore a noi. Saremo figli di un dio minore. Che cosa vi devo dire? Ma era quando non c'è più Silvio. Siamo molto figli di un dio minore. Quindi ragazzi. Male la prima. Non sono neanche troppo arrabbiato. Perché il problema non è neanche... Perché tu ti arrabbi. Sei perso tre punti importanti. Che ti possono essere fondamentali per il futuro. Ma io non vedo nessun futuro. Cioè se non andiamo sul mercato seriamente queste ultime due settimane che mancano. A prendere almeno un paio di giocatori ma di grande qualità. Cioè tipo io vabbè. Ma quando dicevo puntiamo tutto su Mertes. Sproviamoci. Riempiamolo di soldi. Avete visto che gol ha fatto ieri Mertes. Come è risolto da solo la partita. Noi quegli spunti... Quegli spunti non ce li abbiamo. Vero? Quegli spunti non ce li abbiamo. Quegli spunti non ce li abbiamo. Non ti dico a prendere lui. Ma serve uno... Serve uno così. Serve uno così. Io avrei preso. Ames Rodríguez. E una seconda punta. Ovvio. Te lo danno. Non te lo danno. Ma tu almeno ci devi provare. Devi andare lì. Non devi andare lì a prendere Correa. Che Correa fa? Correa in questa partita qua. Cosa... Cosa risolveva? Cosa risolveva Correa? Niente. Niente risolveva. Va bene ragazzi. Aspettiamo che cresce il Birba. E poi mettiamo lui. Tra i fratelli rossoneri. A spaccare le partite come sceva. Vero amore mio? Va bene ragazzi. Un saluto. Dallo zoccolo duro. E dallo zoccolino duro. Duro il Birba. Mettete un like. Già solo per il Birba dovreste mettere like. E iscrivetevi al canale. A che canale? Lo zoccolo duro. Lo zoccolo duro. Iscrivetevi e condividete. Ciao belli. Ciao ciao. Saluta Birba. Fai vedere come saluti. Fai. Ciao ciao. 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 Ciao.